Da anni la città di Taranto, soprattutto il borgo Umbertino, è a dir poco impestato o infestato, scegliete voi la terminologia che più vi piace, di questi tubi volanti messi da acquedotto pugliese che dovevano avere una funzione momentanea per fare fronte a certi lavori in corso da parte di acquedotto pugliese e che poi ovviamente sarebbero stati rimossi. Sono passati anni e anni, forse saranno circa tre anni, e sono rimasti i tubi belli lì. Oramai fanno parte dell'arredo e dell'assetto urbano di Taranto. Ma la cosa che mi sconvolge è vedere, io mi trovo qui in via Roma, guardate, c'è un tubo, proprio nelle vicinanze del circolo sotto ufficiali, un tubo che evidentemente non è più funzionante perché, come vedete, è interrotto. Lo vedete? Il tubo è interrotto, quindi non funziona più. Vedete? Qui. Però stranamente questo tubo, vedete, interrotto, rotto, ancora qui è rimasto interrato, incastonato, fissato all'interno nell'asfalto ed è rimasto così, abbandonato. Guardate qui, è asfaltato, c'è il cemento, vedete, quindi non è più mobile ma è fisso. Vedete? Sta all'interno, è stato messo il cemento da sopra. Allora, che senso ha tenere ancora in vita un tubo che non è più funzionante e lo si lascia così, all'interno dell'asfalto. Questo significa uno che Acquedotto Pugliese fa e poi se ne va, evidentemente, si dimentica, non si cura più di far rimuovere il tubo. Ma cosa altrettanto grave è che l'amministrazione comunale non richiama all'ordine le ditte pubbliche o private, le aziende pubbliche o private che operano nel proprio territorio. L'amministrazione comunale non interviene per tirare le orecchie a quelle ditte che operano nell'ambito delle strade tarantine. Questo significa che Acquedotto Pugliese ha fatto quello che doveva fare, poi se ne è andata e chi si è visto si è visto. Ha abbandonato di fatto la sistemazione di questa situazione. Ma cosa ancora più grave è che l'amministrazione comunale non ha sorvegliato e non sorveglia, perché sappiamo bene che le ditte private, le ditte che operano per conto degli enti pubblici, possono fare di tutto di più sulle strade tarantine, possono sfregiarle, tanto l'amministrazione comunale non controlla. E le ditte fanno i cazzi propri a Taranto, sulle nostre strade, le ditte fanno i cazzi propri, scusate la volgarità, sapendo che nessuno li controlla e li sanziona. Allora, ripetiamo il concetto. Cara amministrazione comunale, perché non ti rivolgi all'Acquedotto Pugliese e dici caro Acquedotto Pugliese, va bene, quella era una situazione emergenziale e abbiamo tollerato i tubi. E ora che il tubo non funziona più, è morto, è mozzato, è tronco, quindi non funziona più, cosa aspetti a togliere il tubo dall'asfalto? È stato cementato, è stato interrato, è stato asfaltato. Questo costituisce un rischio per gli automobilisti, che rischiano di inciampare, per le gomme degli automobilisti, ma anche per le normali persone che scendono dal marciapiede e rischiano di inciampare su questo tubo. Come vedete, quando c'è un sindaco assente, un'amministrazione assente, ognuno fa quello che vuole, anche le ditte private, anche gli enti pubblici, tanto nessuno li controlla e, come si suol dire, quando manca il gatto, i topi ballano. Questa è la realtà, che piaccia o no. Vi muoverete per togliere questi tubi inutili? Chissà, ai posteri l'ardua sentenza.